Avanti. Tocca a te. Metti i tuoi carri armati e gli cibi attacchi, forza. Forse stavolta si poteva fare uno strappolo a regola. Sto male. Mi viene da piangere. A tutti viene da piangere. È per questo che giochiamo. Ogni carri armatino è una lacrima. Ma perché? In fin dei conti è sempre un modo per noi fratelli di stare un po' insieme, no? Vi ricordate? Eravamo sul divano, in salotto. Tutti che piangevano. Era tristissimo. A un certo punto Sandro sparisce e ricompare cinque minuti dopo salendo dalla cantina con la scatola del risico in mano. Ma che diridete? Mi comportate come se mamma non vi avesse mai detto nulla. Segreti da svelare. Per me il massimo dell'emozione è sapere se la macchinetta del lavoro metteranno l'orzo o il decaffeinato. Poi ho provato ad ingoiare un'intera scatola di pasticche. Ma un momento prima di perdere i sensi ho chiamato la guardia medica. Ma perché ci chiamiamo così poco? È la solita storia degli affetti che si danno per scontati. Buffo, no? Valerio, perché non ci hai chiamati? Mattia, attacco la Mongolia. Elio, di cosa sta parlando Valerio? Niente. Forse qui qualcun altro qualcosa da dire ce l'ha. Posso sapere di cosa stai parlando? Non c'è niente da sapere, ho la situazione sotto controllo e con te dopo facciamo i conti. Mi spieghi perché non mi hai mai detto niente? Guarda che non sapevo niente, neanche io. Sì, ma sono io quello ricco qui dentro! Voi e il vostro orgoglio del cazzo! Voi e il vostro orgoglio del cazzo! iscriviti al nostro canale!